È stato più volte definito cantiere fantasma perché bloccato da ormai sei anni. Della tangenziale di San Polo, volta a liberare il paese dal traffico dei mezzi pesanti, si parla dagli anni 90. Nel 2010 iniziarono gli attesi lavori, bloccati nel 2011 al 33% dell'opera. Verso la fine di quest'anno vedremo tornare ai mezzi in azione per la ripresa del cantiere, è quanto hanno dichiarato il sottosegretario all'economia Paola De Micheli e l'ingegner Claudio Vezzosi di Autovia Padana, che questa mattina hanno partecipato al sopralluogo nel cantiere della nuova strada di 9 km tra Carpaneto e San Giorgio. I lavori erano stati bloccati in seguito alla scadenza della concessione a Centro Padane, seguirono una gara europea e alcuni ricorsi fino alla nuova giudicazione. Adesso tutte queste procedure sono finite, è stata assegnata l'A21 Piacenza-Brescia ad Autovia Padana, Autovia Padana sta aspettando la registrazione della Corte dei Conti, è evidente che questo è un passaggio importante che avverrà nelle prossime settimane, noi abbiamo voluto intanto approfittare del periodo estivo per visitare il cantiere e per chiedere ad Autovia Padana che questo cantiere sia una delle priorità per l'importanza che ha l'opera per la nostra viabilità provinciale, per la dimensione di questo cantiere e anche per il rischio di ulteriore deterioramento dei manufatti che già entro il 2011 erano stati fatti. I tempi di gara indicati nel percorso di gara sarebbero dell'ordine dei tre anni, riteniamo che si possa ottimizzare questo tempo, però sicuramente saremo in grado di poterlo confermare nel momento in cui avremo rivisitato il progetto, verificato effettivamente se ci sono degli spazi di ottimizzazione di queste attività. Al sopralluogo hanno partecipato anche i rappresentanti della ditta titolare dei lavori, il parlamentare piacentino Marco Bergonzi e i sindaci di Podenzano e San Giorgio Alessandro Piva e Giancarlo Tagliaferri.